ma buon di motta motta buon di allora ragazzi va che bel fio eh sbarbattino devo farmi un po la barbetta va che carino un bel veget però ancora eh vabbè dai battutaccia a parte allora così al volo io dico al volo poi partono minutaggi incredibili di video allora ho visto e sentito ovviamente l'ultimo video di l'ambrenedetto e io per quest'uomo ho tanta pena mi dispiace di solito non sono così cattivo nei miei dissing motivati come li chiamo io ma questa volta veramente mi rendo conto della bassezza intellettuale eh di quest'uomo ehm ha fatto questo video eh qui la gente al nord Italia impazzita allora io vorrei dire due cosine a questo signore persona che mi fa anche tenerezza anzi direi anche pena perché uno che fa un video del genere adesso ho capito che anche lui è uno come master Wallace è un personaggio fa tutte queste cose giustamente per riuscire ad introitare i suoi soldini con il suo canale eh va bene ci sta però magari cercare di portare qualche contenuto un po' più pregno da un punto di vista dell'intelligenza proprio di quello che dice perché dico questo guardate il video poi ci saranno tanti ma come si fa a dire tanti dai ci saranno tanti che la pensano come lui e credo che ci siano altre ponti o tanti che dir si voglia che la pensano come me you know ci stiamo capendo vengo adunque eh durante passa praticamente più della metà del video a dire nessuno si preoccupa del parco delle groate poi dice che ci sono ragazzine che si sparano le siringhe nella vita forse nella vena vabbè a parte questo sentitelo se vi dico una cagata andate a sentirlo gli faccio anche pubblicità ma ne vale la pena nel senso cioè eh perché non vi preoccupate di questo perché non vi preoccupate di quell'altro perché non vi preoccupate che a cormano c'è la corsia che sono anni che devono finirla perché non vi preoccupate e c'è più di metà video con perché allora caro lambra e minchia benedetto la gente si preoccupa di queste cose come dico sempre una cosa non esclude l'altra no you know la gente si preoccupa di tutte le menate che ci sono proprio perché la gente si preoccupa di tutte queste menate perché di queste menate ce ne sono a strafottere che un'ulteriore menata anche abbastanza grave non così grave come la fanno apparire secondo me ma è grave io di casa esco con la mascherina o col folare e con i guanti di lattice non sono andato a suotare supermercato ecco un po' le esagerazioni quello no però alcune precauzioni vanno prese non è impazzita la gente anche quelli che vanno a fare la spesa al supermercato non li giudico in modo negativo perché anche un modo di prevenire se i nostri governanti avessero fatto un po' di prevenzione e non mi riferisco alla politica c'è ragione salvini c'è ragione tizio c'è ragione con non è questione di poli dico proprio indipendentemente dai colori politici che quando io sento conte dire perché in quel che risponde a salvini ma attenzione non è che sono pro salvino contro contro viceversa è attenzione però gli sento dire ma salvini deve capire che a quel punto lì bisognava agire quando salvini gli riprovera che doveva chiudere le frontiere in funzione del del problema che c'era e della gravità in quel momento però vorrei spiegare una cosa conte che evidentemente non ci arriva c'è anche una come posso dire un termine che si usa cioè prevenire andare in là con la testa pensare cosa può accadere e prendere le come posso dire precauzioni del caso non è che si può rispondere perché in quel momento la gravità era quella e quindi andava fatto quello no conte non è così in quel momento la gravità era quella si capiva che si poteva arrivare a questo punto infatti si è arrivati a questo punto ma è normale ci arriva anche un microcefalo e bisognava agire di conseguenza ecco questo era la divagazione da un punto di vista tecnico statale diciamo così ritorniamo a lambrenedetto caro lambrenedetto come stavo dicendo il punto è che non me la sento di giudicare le persone che vanno a svuotare i supermercati perché anche loro vanno in previsione peggiore pensano che se la cosa come pare accadrà peggiorerà la gente ha più interesse stare in casa non è sbagliato quello che noi non capiamo che l'unico modo per prevenire il virus in fretta e proprio fare questo cioè chiudere tutto perderemo da un punto di vista economico sì è vero ma meno se non lo facessimo perché poi le cose si allungherebbero più malati più morte anche se le percentuali sono basse perché il due per cento tra due tre per cento è brutto dirlo perché basta anche che muore una sola persona ed è una cosa orribile però di fatto quando si è in queste condizioni bisogna basarsi sulle percentuali due tre per cento non è altissimo quindi sì stare attenti ma non farsi venire la psicose al tempo stesso voglio dire sta che la gente vada in giro con la mascherina se il governo ha fornito i carabinieri di mascherine ci sarà un motivo non nei paesi dove c'è il focolaio che dici l'hanno benedetto sono tutti dei coglioni oppure ci vedi dietro queste no come posso dire queste cose fantageo questi complotti fantageo politici perché la cricca vuole ma sentite cosa dice la roba davanti ma chi lo vuole il malessere cioè chi è che vuole andare in merda economicamente perché crolla tutta l'italia se questa situazione si protrae per molto tempo ci andiamo tutti compresi i nostri governanti ma chi chi ha interesse a fare questo che senso ha cioè cos'è un complotto tirare fuori questo virus e comportarsi così è un complotto che senso ha il malcontento della gente perché senso ha ma io quest'uomo veramente secondo me ha qualche problemino mi dispiace dirlo però primo ripeto una cosa non escludere non è che la gente non si preoccupa delle altre menate si preoccupa come aggiungere un ulteriore anche di una certa gravità aumenta il livello come posso dire di attenzione delle persone anche di paura però se il ministero della salute dice il miglior modo per debellare il virus è questo non mi sembra sbagliato io non sono uno che segue molti consigli del nostro governo su tante cose ma in questo caso sì perché ragiono col mio cervello e mi rendo conto che è giusto farlo perché mi è il miglior modo per cercare di chiudere in fretta la questione se ce ne fregassimo tutti andassimo tutti nessuno cioè scusate nei centri commerciali come se non fosse niente in giro a fare spazi di aggregazione è chiaro che il contagio aumenta caro l'ambra ne detto ma un chiuso cinema e sì anch'io dovuto chiudere la palestra e l'ho fatto un mio mal volentieri ma l'ho fatto anzi ho anticipato anche di due giorni la cosa perché sapevo che ci sarebbe stata l'ordinanza lo immaginavo non ci voleva uno scienziato quindi caro l'ambra ne detto non dire cagate per favore e abbi rispetto delle persone che sono spaventate perché poi ci sono anche persone come sottoscritto e molto peggio del sottoscritto che sono a rischio per determinate patologie e quindi è normale che siano ancora più preoccupate perché se quella merda di virus becca un soggetto come sottoscritto anche peggio e noi facciamo così con la manina non ci salviamo non c'è e morte praticamente quasi sicura di certo non non è sicuro al cento per cento ma è se becca uno come noi vai vai quindi normale che la gente magari una famiglia a una persona invalida con delle problematiche è chiaro che si preoccupano tutti perché caro l'ambra ne detto il punto non è solo pensare a se stessi e qua sta la questione caro il mio signora poi non sei uno sbarbato ma due neuroni che ogni tanto si incontrano dovresti avere ma dialogano tra loro i due perché ne avrai due non di più neuroni che ha nel cervello dialogano tra di loro cioè devi pensare agli altri non solo a te stesso se io mi infetto infetto mia figlia che è incinta i miei due ragazzi la mia donna cioè ma ma adesso non è spaventarsi è usare il buon senso la testa e prendere le dovute precauzioni poi io non sono andato ripeto a fare la spesa enorme a supermercato perché sono convinto che la situazione non è così grave e spero mi auguro e credo perché vedo come si sta come sta andando che la cosa non peggiorerà ci sarà un picco ma se ci manteniamo tutti con queste situazioni condizioni precauzionali in atto poi comincerà a diminuire io sono convinto di questa non perché sono ottimista perché se la gente rispetta determinati dettami di precauzione la strada è quella non stiamo parlando degli zombie o di un virus che nel 90 per cento dei casi è mortale grazie a dio quindi il cervello fai delle previsioni e ti rendi conto usando il cervello che le cose se vengono fatti in un certo modo vanno verso una certa direzione cioè quella giusta invece di fare tanto per l'allarmismo alla fine lo procura lui e fa un servizio anche sbagliato alla comunità cosa vuoi dire che allora la gente non si deve preoccupare però dopo lo dice no capisco ma non si può dire capire la gente con la mascherina certo certo la cosa che forse dovevi dire e che non hai detto per questo dico che hai due due neuroni che probabilmente non si incontrano che il governo per gli sciacali di merda delle tutte le farmacie dovrebbero cercare di dare un prezziario alle mascherine e ai gel perché quella per tutto non si trovano uno due li trovi sul web a dei prezzi assurdi e lo stesso dicasi per i gel ecco dove dovrebbe intervenire il governo perché quello è sciacallaggio e dovrebbero essere pesanti con le sanzioni di chi si comporta in quel modo perché è sciacallaggio questo però non lo dici vedi e io non vorrei offenderti questo video non farò come scheraggi che tornerò sui miei passi perché caro il mio ragazzo per quello che hai detto sei un irresponsabile irresponsabile e aggiungere anche un po coglionazzo perché non si dicono quelle cose in una condizione in cui siamo in questo momento ok anzi si fanno notare proprio di problemi che ci sono tipo lo sciacallaggio sulle mascherine e sui gel è quello forse potevi dire con un po di intelligenza ok per favore continua a parlare dei tombini a livello che la miglior cosa che puoi fare è uno tanti saluti